va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica buona giornata a tutti voi da massimiliano spiriticchio in studio e di tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne e apriamo con la notizia che è morto nel primo pomeriggio di ieri don michele d'andrea il sacerdote nato a capracotta il 7 ottobre del 1930 era stato ordinato nel giugno del 1956 vicario parrocchiale lo spirito santo prima e parroco di cerratina poi arrivò a pescara colli il primo ottobre del 1973 come parroco di san giovanni battista ha guidato la comunità dei colli nell'integrazione con la parrocchia di san benedetto abate e negli ultimi anni nonostante gli acciacchi la malattia e l'età ha continuato a metterci a servizio dell'arcidiocesi della chiesa come canonico della cattedrale e coparroco della neonata parrocchia di san giovanni battista e san benedetto abate con la preghiera la discrezione e il sorriso che lo hanno sempre distinto ricordano i sacerdoti che hanno collaborato con lui in questi anni venerdì 21 novembre alle 8 e 30 il funerale nella chiesa di strada pandolfi sarà a socellenza monsignor tommaso valentinetti a celebrare la funzione prima del trasferimento della salma al cimitero di capracotta confronto con le parti sociali procedura per legare certezza delle risorse problematiche e criticità delle aziende di settore sono alcuni dei temi affrontati nell'incontro avuto dai sindacati filt cgl fit cisl will trasporti e faesa cisal con il sottosegretario la presidenza della giunta regionale con delega e trasporti umberto d'annunzis abbiamo avviato un percorso di confronto e dialogo con la regione abruzzo sul tema dei trasporti che avevamo chiesto da tempo e che riteniamo fondamentale per trovare soluzione alle numerose problematiche che attanagliano il presente e il futuro dell'intero settore e il primo commento dei quattro segretari generali che sul tema così continuano in abruzzo stiamo proseguendo con un'avvertenza cominciata lo scorso 24 luglio con lo sciopero nazionale dell'intero comparto riteniamo indispensabile che il settore trasporti diventi centrale per le opportunità di sviluppo e per la crescita economica dell'intero territorio a cominciare dal trasporto pubblico locale e per questo apprezziamo la disponibilità del sottosegretario d'annunzis ad aprire a breve un tavolo di confronto che affronti i diversi ambiti si è aperto anche un confronto inerente le crisi aziendali di tua la società che gestisce il trasporto pubblico nell'area metropolitana di pescare chieti cerella ed ama gestisce il trasporto pubblico in particolare in quelle aree ma in realtà in tutto l'abruzzo tredicesimo sfratto di abusivi a pescara con lo sgombero di una famiglia da un alloggio di via nora alloggio che nella stessa giornata è stato riassegnato ad una famiglia che ai titoli necessari e che è in posizione utile nella graduatoria comunale l'impegno e la presenza delle forze dell'ordine ci hanno permesso come sempre di svolgere le operazioni con calma e senza problemi e di perseguire quel percorso di ripristino della legalità dei nostri quartieri popolari che continuerà nelle prossime settimane lo hanno detto il presidente del consiglio regionale lorenzo sospiri e l'assessore comunale alla politica della casa Isabella del trecco al termine dello sfratto eseguito secondo il protocollo operativo messo a punto dalla regione dal comune dalle forze dell'ordine che consente di entrare nelle case occupate dagli abusivi liberarle subito dopo dagli occupanti rimuovere le loro masserizie e contestualmente riassegnarle agli aventi diritto presenti nella legittima graduatoria appunto in base questo alle norme stilate dalla regione Abruzzo. Andiamo a Bussi ora dove Giovanni Legnini è stato eletto presidente della commissione d'inchiesta sul sito inquinato proprio di Bussi insieme a lui sono risultati eletti Daniele Damario vicepresidente del gruppo di Forza Italia Emiliano Di Matteo segretario gruppo Lega Nord la prossima riunione sarà per iniziare i lavori di indagine sulla mega discarica dei veleni della Montelison si terrà giovedì 28 novembre alle 15.30 a Palazzo dell'emiciclo nella sala Gabriele D'Annunzio con l'obiettivo appunto di fare luce su questa vicenda che appunto riguarda Bussi. Torniamo a Rancitelli adesso dove sono stati sono dieci di cui e due ancora reperibili le persone destinatarie della misura cautelare della custodia in carcere per il reato dispaccio di sostanze stupefacenti all'interno del complesso di dirizia popolare denominato ferro di cavallo proprio nel quartiere di Rancitelli. Quattro gli indagati, quattordici in tutto le persone coinvolte. E veniamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino alle ore centrali coperto nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e coperto in serata con temperature da 12 a 15 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo nuvoloso fino alle ore centrali coperto nel pomeriggio e nelle prime ore della sera. È molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 12 a 15 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie per aver guardato il video.